Nel suo cammino nel mondo l'uomo non è mai solo e soprattutto noi cristiani non ci sentiamo mai abbandonati perché Gesù ci assicura di accompagnarci in ognuno dei nostri giorni. Lo ha sottolineato Papa Francesco nella Catechesi dell'Udienza Generale tenuta in piazza San Pietro sul tema io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo, la promessa che dà speranza. Sono le ultime parole del Vangelo di Matteo, la promessa di Gesù e di Scepoli. Passeranno i cieli, verranno cancellate le speranze umane ma la parola di Dio non passerà, ha ricordato il Pontefice. Non ci sarà giorno della nostra vita in cui cesseremo di essere una preoccupazione per il cuore di Dio. Lui si preoccupa di noi e cammina con noi. E perché fa questo? Semplicemente perché ci ama. Capito questo? Ci ama. E Dio sicuramente provvederà a tutti i nostri bisogni. Non ci abbandonerà nel tempo della prova del buio. Questa certezza chiede di anidarsi nel nostro animo per non spegnersi mai. Qualcuno la chiama con il nome di provvidenza. Per questo, ha concluso Papa Francesco, tra i simboli cristiani della speranza c'è l'ancora, che mi piace tanto. Esprime che la nostra speranza non è vaga perché se Dio ha garantito di non abbandonarci mai, perché temere? Anche attraversando porzioni di mondo ferito siamo tra coloro che continuano a sperare. La nostra fede è l'ancora in cielo e noi dobbiamo aggrapparci alla corda che è sempre lì, sulla spiaggia del cielo, in quella riva dove arriveremo.